La palla a volo mi ha insegnato ad essere semplice. Ma in campo ti trasformi, i tuoi gesti sono straordinari. Attraverso la colletta alimentare noi tutti possiamo fare un gesto semplice ma straordinario. Il 26 novembre è la giornata nazionale della colletta alimentare. Va in uno dei supermercati che aderiscono all'iniziativa e fai la spesa per chi ha più bisogno. È un gesto di solidarietà verso i più poveri promosso dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus. Dai, andiamo! Grazie a tutti!